Questo programma è offerto da Differenziamola, promossa dal Comune di Reggio Calabria, dal Conai e dalla VR. E allora che sintomi ha? Ma quali sintomi, dottor? Io ho crisi di personalità, di identità, non so più chi sono. Sì, d'accordo, ricco. Perché, ma perché, perché fa male, male d'amore. Non si preoccupi, sta arrivando la sicurezza. Questa battuta, la banda che suona e che canta per un mondo diverso, libertà e tempo perso. E nessuno che rompe i coglioni. Nessuno che dice se sbagli e sei fuori. Sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori. In Fire Sound, informazione ridotta ma sempre Fire Sound. Carmelo Carullo, Massimo Sgro, Rodolfo Sgro, Gianmatteo Corona e Aldo Carrà. Che non è parente di Carullo. No, perché il cognome è simile. Quando si hanno cognomi simili si può essere parenti. C'è una nuova regola che non è per la stabilità. Il nostro Pasquale Capri, che invito subito a raggiungerci al centro dello studio. Non sono benvenuto Marra. Pasquale Capri è lei. Io sono benvenuto Marra. Hai ragione. Lo so, ho fatto una parte. Vabbè, ok, si può rifare questa parte. La rifacciamo. Non mi è piaciuto che ho detto Pasquale Capri è entrato. Vabbè, rifacciamo. Torni un attimo indietro. Pasquale Capri. Adesso dire benvenuto Marra. Torniamo indietro. Benvenuto Capri. No. Benvenuto Marra. Oh, ce l'abbiamo fatto. Vabbè, si taglia quella magra. Sì, va bene. Voglio andare. Non si può tagliare perché siamo in diretta. Ecco, lo vogliamo ricordare delle spettatori. Molti fanno le trasmissioni registrate. È facile. Uno sbaglia, si riposa, si ferma. Noi non ci direi. Allora, perché siamo in anzio di questo ne diremo che sono le ore della lana. Ah, ecco. E quindi, beh, non c'è nessun... Assolutamente. Voglio andare a Sibari. E Sibari dov'è? Tu vuoi andare a casa? A casa dov'è? No, a Sibari. Sopra motelta. Sì. Come si fa fare il cantante con una S così? Si può fare il cantante? Eh, lo faggio la notte. Lo faggio la notte. Sì, grazie per la linea, grazie per la linea. Quindi, se ci sono le PGS ed, siamo ancora qui a Sibari, i PGS ed 2018. Visto che ci sono molti tornei, abbiamo deciso di intervistare il re di coppe. Vabbè, facciamo dell'esterno. Comunque, intanto io mi faccio un giro. Permettete. Allora, Tino Mena, Lena e Ander, allora, quando arrivano i clienti, si deve fare precisi spiegazioni, non ti capisco chiaro. Allora, se arriva un'informazione, dobbiamo essere petiti, allora... Eh, devo mettere? Eh? Mettere? Cosa devo mettere? Eh, allora, basta. Prego, dica. La piscina dove si trova? La piscina? La piscina. Allora, piscina, questa è la piscina. Devo essere precisi. Allora, vedete, qua c'è il plastico, il buon vestito, cioè... Non ti capisco niente. Allora, la piscina deve andare, e qui qua, gira, in fondo a destra, poi sinistra, e poi c'è la, cazzo, che diventi la piscina, questa. Sì, questa. È blu, sì, è blu, ma c'è anche questa eventualmente. Eh, c'è un due, quale vuole, una, due, tre. Eh, allora, non capisci, sono catti tuoi, puri, allora è la piscina. Sì, la piscina. Allora, indietro, indietro, se me... Vabbè, deve andare ora, quest'ora è tardi, la piscina, guarda comando, rompe i coglioni, scusate, e vabbè, allora, la piscina. Eh, questa qua è più bella. Eh, vabbè. È più grande, è più bella. Basta, sigla. La piscina è... Basta. Buonasera, ci dobbiamo lo staff di Caprifuso, ci... Allora... Com'è... All'ogga, eh? Allora... Quattro singole. Quattro singole. Sì, no, quattro singole. Quattro singole. Sì. Abbiamo quattro singole disponibili? Sì. Te le do no? Sì. Quali? Eh? Che tante, che uno, che tante, dai, allora... Allora, e allora dobbiamo dire l'initore, non do tanto per l'initore, eh? Allora, mi devo nottene tutto tanto, eh? Allora. Allora, e noi abbiamo già prenotato,ammo. Ci sono già le camere. 1500, quanto è il tuo favore? 1500 ero in lire, ora in euro sarà più o meno 70. Mi favorisca i documenti, dai, cazzo identità, dai. E non solo il passaporto. Pattaporto? Pattaporto. E cazzo di andare a lettere il passaporto? Allora, dammi cazzo identità, proprio coglioni. Ma non c'è nulla cazzo identità, in basso ai quarti. Tappaporto? Non tappaporto, non tappaporto. Ti vuol tappaporto? Sì, va bene. Allora, perso posto, in fila, per due. Corresso di che ora? 1540. Ma aspetta, aspetta, perché c'è un po' tutto. Il bagno è là. Ti rotella, però ti non mi dai una mano o non ti va? Non ho capito. E dico, se non mi dai una mano, non si può. Allora i signori pelati non ti fanno tanto. Bello! Vabbè, bene. Perfetto. Allora, prendiamo le tante? Le stanze. Compagni, signori, le tante? Stanze. Allora, quanto abbiamo le tante? Tiri sul collo, tiri sul collo. Ah beh, che cazzo funziona il collo? Allora, tante numero, le compagni tu? Sì, le accompagno io. Ah beh, allora. Se non c'è la singola, dottor Costanzo. La singola? La stanza posso dormire con lui, in questo caso diventa la stanza con lui Costanza. La metto di merda questa cosa. Me ne vado, me ne vado. Non voglio più la camera. Vai, via. Vieni, dai, ahhh. Ti faccio la navire. Ti faccio la navire. Ti faccio la navire. Anche ora, non ci capisce. Ehi, cazzo. Stiamo preparando la serata, le premiazioni. Andiamo a Marcelli. Allora, grazie, grazie, grazie. Allora, buonasera, vieno. Ecco qua, allora. Bastaaa. Eh. Bene, siamo... Ci chiamo di Pigesiadi. Ci chiamo Sibari Marina, una struttura... Che dà, che dà? La Marneta, abbiamo la struttura... Marlusa. Marlusa. Allora, io, iniziare subito, che è la prima domanda, la volevo fare... Dica la verità, eh. Allora, quando è stata la prima volta che avete iniziato questo... Vieni, vieni, hai iniziato, ce l'ha, me l'hai fatto la mia volta, il preservativo, allora, se la figa, si ricorda meglio, non mi ricordo se fosse lei, quindi, eh, però devi capire che mi dice quando parla, mi scandisca, scandisca, allora, Sergio è l'anima di questa iniziativa, un brevissimo direttore di Tentro, non metta nello in alto, come è stato? Eh, hai iniziato subito l'approccio, eh, l'ha provato tu, mi l'ha data, eh, è andato in bianco, ah, che è la verità, picotti, dai, dai, lei invece, allora, mamma, Cazzo orrite, quindi, vabbè, allora, scusate, devo fare cavalluccio, però almeno, avrei una domanda da porci, Sì, dottor, vabbè, allora, musica, demo, morseggiai, basta, Buonasera, grazie, musica stop, tipario, tigla, tau. Allora, siamo con uno degli esponenti indicanti che hanno scritto pagine importanti a un'italiana, tipo una ragazza in due, ci fa un accenno? E va bene, questa era l'ultima volta. Questa volta che siamo stati a Sibari, insomma, la salutiamo e magari torneremo l'anno prossimo, è il momento di Gaetano. Sentiamo Gaetano, stavolta che cosa ci propini. Allora, il maresciallo di Granbiriere l'ho puntato. Presto l'ho puntato, ti colleghi con la Germania, chiamano Franco Forte. L'ho puntato, si affaccia al balcone, Franco! Oh Franco! Franco! Maresciallo, più forte così non posso! Sì, ma veramente, ma hanno ragione pure di fare il sound, cioè veramente non ce n'è più, non ce n'è più, non so che cosa dobbiamo fare. No, ma, ma lei è benvenuto Marra, quello del Videocalabria, quello famoso? Eh, sì, famoso, affamato, affamato più che famoso. Posso fare una foto, signor? A voi, a lei? Sì, certo, a voi, a voi. Faccio la foto, aspettate. Facciamo la foto. E' abbinata alla... Scusi? E' abbinata alla camicia. Dai, dai, facciamo questa foto, dai. E facciamo questa foto. Scatta? Capri, per favore, venga qua. Non me la sento, scusi, ma... No, lo so, la capisco in pieno, ma lo show, show must go, quindi dobbiamo andare avanti per forza, malgrado queste cose con la camicia abbinata alla cover del cellulare che scatta. La puoi rifare, la puoi rifare questa qui. Il signor Fire Sound pure è andato via, non vuole... Come, com'era? Sì, scatto alla risposta. No, 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 andate via che dobbiamo, dobbiamo cantare, dobbiamo suonare, no, no, non fate così, vi prego, vi prego. Il GIEP che è. Bene. Bene è un parolone. E' l'uomo tigre, sì, sì. Posseduto dai personaggi dei cantieri. Eh beh, quello, insomma, è qui per questo motivo, lei è il paziente zero, ricordiamolo, quindi affetto da molti personalità. Perché poi, nello sviluppo dei calciatori del gioco, perché... Questo tignoso non lo sopporto io. Allora, la Juventus ha giocato, la Juventus. Sicuramente mi ha fatto una buona partita, io credo che... Non mi ricordo, insomma, che abbiamo vinto diversi scudetti. E l'uccellino? Ma l'uccellino... no, non me lo ricordo. Non se lo ricordo. E allora cosa ci fai ascoltare oggi? Bella domanda. Allora, di solito ho abituato il pubblico a brani un po' malinconici. Invece, invece, quest'oggi voglio cambiare genere. Faremo un pezzo allegro di un cantante straordinario. Stupefacente, oserei dire. Addirittura. Un cantante che si è fatto da solo. E chi sarebbe? Grignani. E Grignani si è fatto parecchio da solo. Grignani? Abbastanza da solo. Che c'è? No, ma scusi, no? Perché non la vuole fare? Ma Grignani no. Tutto, ma Grignani no. Ma Destinazione Paradiso l'ha cantata anche la Pausini, che è cantante anche lei molto allegra. Non la fare, tu non la fare. Va bene. La facciamo in là? Mi sposto. Dai, dai, che la fanno. In fa... Volevo fare io così con le bacchette da... Non c'è il coro. Non, il coro non c'è. Ah, meno male. Poi, non lo so. Ok. Qualora volessero farmi una sorpresa. Faccia quello che vuole. No, io il coro, no, non lo tollero. Oggi non lo tollero. Coro! Qui. Ah, facci il romano questa, è coro. È colpa sua. È colpa sua. È lei che l'ha chiamato. Era lì, tranquillo, dietro le quinte. No, lei ha dovuto chiamare e ha detto che corre. Capito? Cioè, non lo so. Sta correndo di nuovo. È lei, dottore. Corre, 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 corre. Matto. Tu, 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 tu. Ok, ragazzi, io la cantiamo. Però ci tengo a previsare che mi secco di imitare Grignani per tutta la canzone. Quindi voglio cambiarlo. È perché a un certo punto Grignani vuole andare via. Perché è una voce che poi alla fine rompe. No, Grignani è da un poco che vuole andare a... Esatto. Ok, come faccio. Musica. Musica. I capelli lunghi però io... E che che c'è per te? Era vasco. Ah, era forfora, scusami. Ora capisco perché non vuoi... Che sei volte è perso e resta qua. Lo so per certo, amico. Mi son voltato anch'io. E per raggiungerti ho dovuto correre. Ma più mi guardo in giro e vedo che... Enrico. C'è un mondo che va avanti anche se... Diciamo. Se tu non ci sei più... Vasco. E se tu non ci sei più... Dicchi te. E di... E di... Perché... Max. In questo giro tondo d'anime non c'è... Tiziano. Un posto per scrollarsi via... Ti dosso. No, no. Quello che c'è stato detto è... Quello che ora che si sa. E allora sai che c'è... C'è. Che c'è. Che c'è. C'è che prendo un treno che va... Da Gigi D'Alessio in città. E vi saluto tutti. Salto su. Prendo un treno e non ci penso più Un viaggio assenso solo, senza ritorno se non in volo Senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani Io mi prenderò il mio posto e tu seduta lì al mio fianco Mi dirai destinazione paradiso, paradiso città Il Fire Sound! Io benvenuto Marra, la macchina organizzativa, i tecnici, i costumisti, i truccatori, i parrucchieri e anche i montatori che stanno in faglia del 69 Stavo intanto prendendo attenti, stavo certificando che lei ha un male incurabile La multipersonalità sua non si può curare assolutamente Io ho un male, non ho mai fatto, no perché quando, salutiamo anche Sì, chi? No, un bicchiere d'acqua per favore Un bicchiere d'acqua, vabbè Credo siamo giunti alla conclusione No, io qua la relazione l'ho fatta, siamo a posto, quindi la mia pennettina me la rimetto qua Il coro dobbiamo, dobbiamo, dobbiamo salutare Io credo che vada ringraziato il coro Il coro Gaetano Aldo Aldo Sandrino Junior che non c'era però è tornato adesso È tornato adesso, sì Antonio Rieto Antonio Rieto Rita e tutti coloro che ci seguono da casa Anche da qui Ma loro non ci sono Volete raggiungerci? Ci sono seguendo da qui Per il finale, dai ragazzi Per il finale, venga, il pubblico, il pubblico, venga, venga, venga a salutare Venga a salutare E il pubblico delle grandi occasioni, oppure delle medie occasioni Allora, ciao Ciao Una vita in vacanza Una vecchia che balla Niente nuovo che avanza Ma tutta la banda che suona e che canta Per un mondo diverso Libertà e tempo perso E nessuno che rompe i coglioni Nessuno che dice se sbagli sei fuori 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 Grazie per la visione!